L'itinerario di 8 chilometri nella splendida cornice della Valle del Lozen è pensato per essere alla portata di tutti. A come punto di partenza e arrivo il piccolo paese di Zortea, la Craspa Magno Dolomitica che quest'anno festeggia la 6. edizione sarà occasione unica per visitare luoghi suggestivi e ammirare scorci pittoreschi tra bianche distese di neve, boschi silenziosi, caratteristici masi e baite di montagna. Lungo il percorso i partecipanti avranno la possibilità di gustare in un percorso con 8 differenti tappe i prodotti del territorio per un connubio tra natura ed enogastronomia, dai formaggi del caseificio di Primiero alla carne di selvaggina fino a passare ai canei, derli in brodo e agli infusi a base delle erbe di montagna del Vanoi. 8 tappe per una passeggiata sulla neve con le ciaspole che è anche un viaggio dunque nei sapori e nelle tradizioni della cucina trentina di montagna. Si comincia abbastanza presto alle 9.30, c'è infatti la distribuzione delle racchette da neve alla Casa della Cultura di Zortea mentre alle 10 si parte dall'albergo Serenella con un percorso ad anello attraverso i prati di Santa Romina e i pascoli di Malgalozen con partenza e arrivo, come detto, a Zortea. La manifestazione avrà luogo anche in mancanza di neve, in quel caso l'itinerario verrà percorso a piedi.